Scivolone casalingo dell'Atletico Vieste che impatta in casa contro un arcigno Ascolis Adriano che fa meritatamente sua l'intera posta in gioco. Prestazione scialba per i padroni di casa che in vantaggio nel primo tempo si sono fatti superare nella seconda frazione di gioco dalla squadra di mister Maierlaro, Maido Mai che ha rischiato addirittura di rendere ancora più netta la differenza reti. Per mister Olivieri e i suoi ragazzi c'è ora bisogno di rimettere la palla al centro e rivedere un po' di cose. La partita in ogni caso inizia bene per i garganici che già al decimo con l'ottimo Colella sfiorano il vantaggio grazie alla bordata su punizione che sfiora l'incrocio dei pali. Ma un minuto dopo un malizioso rimpallo favorisce l'intervento di Galano dell'Ascoli che però non è preciso nella conclusione. Al ventitresimo il direttore di gara espelle direttamente dalla panchina il numero 13 Ricci della squadra ospite per un suo intervento in campo a seguito di un diverbio con Paolo Augelli scaturito pare dall'atterramento di un giocatore a scolano e la continuazione del gioco da parte di Ricucci. Gli ospiti si fanno pericolosi al ventinovesimo quando una disattenzione della difesa viestana consente l'inserimento in area di Piscopo che sciupa un'occasione d'oro da ottima posizione. La reazione del vieste al trentatresimo quando su assist di Ricucci il bomber Rocca Augelli scarica di prima intenzione e manda di pochissimo a lato. Il vantaggio dei garganici giunge al trentasettesimo grazie ad un rigore concesso dal direttore di gara il signor Lopriore di Foggia che vede un tocco col braccio di Giannatempo su tiro di Gentile servito dall'auto di destra da Rocca Augelli. Ed è proprio il bomber biancazzurro a trasformare e portare momentaneamente in vantaggio il vieste. Nella ripresa Lascoli scende in campo deciso a non lasciare il gargano a mani vuote ed infatti già al quarto minuto pareggi i conti con Galano, ottimamente servito da uno straordinario piscopo, autore di un tiro filtrante alla soterra che attraversa tutta l'area piccola. Mister Olivieri corre ai ripari effettuando due sostituzioni, fuori Gentile per Perlangeri e Ricucci per Silvestri. Ma i campi non si rivelano granché fruttuosi perché la musica cambia di poco, tant'è che al diciottesimo il portiere del vieste, l'ottimo Muscato, si vede costretto ad un doppio miracolo con l'arrembaggio di Balletta, entrato di inizio e di ripresa al posto di Giannatempo. Al diciannovesimo per i garganici suona la sveglia ancora Colella che dalla distanza calcia un bolide che costringe l'estremo difensore Ascolano a distendersi e deviare in angolo. E sugli sviluppi del corner il vieste torna il vantaggio, ma l'arbitro annulla per un presunto tocco col braccio di Campanella, autore della virtuale rete. Il vantaggio vero lo conquistano invece gli ospiti al ventitresimo con un preciso colpo di testa di Quaresimale sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il secondo gol subito spezza ulteriormente le gambe al vieste che riprova ancora con un calcio di punizione di Colella che però è facilmente agguantato da portiere avversario. L'ascolo invece si rende ancora pericoloso nelle ultime due occasioni. Al quarantesimo quando sul filo del fuorigioco Campanella è bravo a naturalizzare la ripartenza di Quaresimale e Balletta e al quarantanovesimo allorché Porcelluzzi si vede negare dall'ottimo muscato un insidioso tiro a rete. L'ascoli vittorioso sale a dieci punti mentre il vieste rimane al secondo posto con i suoi diciotto punti.